Di nuovo buonasera a tutti quanti presenti, allora iniziamo subito senza ritardi a presentare ulteriormente i nostri fantastici ospiti, un gruppo veramente eterogeneo su quello che riguarda intelligenza artificiale e creatività, parleremo di cibo, parleremo di storia anche da un punto di vista filosofico umanistico, quindi avremo veramente molti aspetti da affrontare insieme. Comincio col presentarvi in ordine da lì a qui, a me, Simone Lattes, che adesso si presenterà anche lui, il signor Raul Reste, grazie, che farà da interprete a Christophe Blesi, che presenterà in inglese. Abbiamo poi Marco Viganò, Marina Gemonat, anche se lì c'è scritto Maenz però ha un errore tipografico e anche questo è qualcosa di cui si può discutere ampiamente. L'ha fatto già GPTT, perché non possiamo farlo anche noi. E poi abbiamo ovviamente Simone Arcagni qua alla mia destra. Grazie ancora a Marzia per aver organizzato questo splendido panel. Come diceva, io mi occupo di intelligenza artificiale in ambito soprattutto linguistico. Analizziamo il parlato, analizziamo quelle che sono i testi, le parole, le persone che parlano per riuscire a trascrivere, ma non solo, a tradurre e quindi a rendere anche più inclusivi gli incontri. Passo la parola a Simone in modo che possa iniziare. Vediamo se funziona quello lì. Funziona? Sì, tocca a me l'esordio. Buonasera, sono Simone Lattes, dirigo la casa editrice Lattes, che è un editore di scolastica, facciamo libri per le scuole medie superiori. e anche nel nostro ambito l'intelligenza artificiale ormai è entrata da diverso tempo e promette di ampliare i propri campi di applicazione. Abbiamo poi il professor Christoph Blesi, insegna all'Università Gutenberg di Magonza, esperto di intelligenza artificiale applicato all'editoria e al libro. Faccio io? Vai. Buonasera, sono Marco Viganò e lavoro per Condenast, che è un editore con diversi brand come Vogue, Vanity Fair, La Cucina Italiana e D. Quindi oggi vi parlerò un po' di come utilizziamo l'intelligenza artificiale nei nostri brand. Buonasera a tutti, sono Marina Gioimonà, io sono un'informatica laureata a Torino e mi sono laureata nel periodo di una delle primavere dell'intelligenza artificiale, che poi sono seguiti gli inverni e adesso finalmente, prima della pensione, sono riuscita a catturare un'ulteriore fioritura e primavera di intelligenza artificiale. Ho lavorato nel centro di ricerca di team per tanti anni, adesso lavoro in CISAL, nel laboratorio di innovazione e usiamo l'intelligenza artificiale per fare una marea di cose, quasi tutto, l'operations, migliorare il funzionamento dell'azienda, quindi insomma si usa veramente a 360 gradi e stasera ne vediamo le applicazioni dal punto di vista invece della creatività di cui si parla veramente tantissimo ultimamente. Ok, buonasera, odio autopresentarmi, mi chiamo Simone Arcagni, io sono professore di Nuove Medie e Nuove Tecnologie, mi occupo di digitale da oltre 30 anni, da un punto di vista umanistico, filosofico, culturale e quindi mi occupo anche di intelligenza artificiale da quel punto di vista. Grazie ancora, grazie ancora, Simone, tieni tu il microfono perché mi ti puoi, Sì, io mi occupo di digitale, infatti sono qua con libri, foglietti e quadernetti assolutamente analogici, ma spero non sia un controsenso. Anche il mio intervento, come vedete dalla conformazione, vorrei essere non particolarmente strutturato, ma spero particolarmente efficace. Io quando faccio queste presentazioni lo chiamo rapsodico, così faccio Gershwin, eccetera, eccetera. Il titolo di questo mio intervento potrebbe essere, qui so già che mi faccio tanti nemici, Sottraiamo l'intelligenza artificiale agli ingegneri. Quindi se volete buttarmi qualcosa contro, parlo anche al rettore, fatelo subito. L'idea è che il concetto di intelligenza artificiale, l'idea, l'immaginazione, il sostrato culturale dell'intelligenza artificiale è qualcosa di molto profondo, di molto radicato e persino storico. Ho provato in questi giorni a tornare sui miei appunti di studi e via dicendo. Noi abbiamo le prime raffigurazioni di vere e proprie intelligenze artificiali e di automi che parlano, che discutono addirittura nell'epoca classica. Dal mito di Prometeo, vi ricordate, prendo il fuoco, lo regalo agli uomini, c'è tutto un discorso che arriva fino in età ellenistica sulla tecnologia, la tecnica, è un dono degli dèi, oppure è una hubris umana contro gli dèi, eccetera, eccetera. Nell'Iliade è rappresentato un cyborg, un guerriero che a un certo punto è parte robotizzato. Luciano di Samostata, sempre in epoca ellenistica, parla di intelligenze artificiali, addirittura parla di un viaggio sulla Luna, penso che sia il primo romanzo di questo genere. Io ho portato qua, c'è un libro di Antonio Caronia, prematuramente scomparso, penso che sia uno dei più grandi autori, sono le mie slide queste, dei più grandi autori di cultura digitale e fa una storia del cyborg, parte proprio dall'Iliade e arriva ai giorni nostri. Ma non per dire, guardate come i letterati sono stati bravi a preconizzare la tecnologia, ma per dire che, guardate che la tecnologia nasce con un'anima profondamente umana, nasce nelle storie, nei racconti, nelle proiezioni che l'uomo fa, magari intorno a un fuoco, raccontandosi per non avere paura. È del 1500, per esempio, il teatro della memoria. Giulio Camillo Dei Minio, vicino a Verona, costruisce un anfiteatro, un'intelligenza artificiale che si basa non sull'ingegneria ma sull'architettura. Nel teatro, al posto dei posti a sedere, ci sono dei segnaluoghi con delle informazioni e delle modalità per cambiare l'ordine delle informazioni in maniera stocastica. Cioè, è una vera e propria pre-internet architettonica. Cioè, c'è un'intelligenza architettonica nella costruzione di possibilità combinatorie della letteratura. Se non c'è parlare di certi GPT, bastava andare nel 1500. C'è quindi una serie di saperi che dobbiamo ritornare a interrogare. Abbiamo nell'epoca del 600 automi in grado di fare delle cose incredibili. Adesso qui ho portato quello di Eugenio Battisti, Giovanni Fortunati. Qui sono automi che possono addirittura parlare attraverso una serie di sistemi pneumatici. Molti sono dei fake, come ci raccontò Edgar Allan Poe nel 1800 guardando l'automa dello scacchiere, dello giocatore di scacchi di Melzel. Però erano istanze, istanze culturali che sono nell'uomo, sono nella sua capacità di immaginare una tecnologia come qualche cosa fuori da sé con cui dialogare e con cui parlare. Noi dovremmo andare a confrontarci con questi, con i racconti di Hoffman, con la tradizione ebraica del Golem, con il Frankenstein di Mary Shelley, con il primo lavoro teatrale in cui appare la parola robot di Karel Capek. Bellissimo! Il robot non è meccanico, è umano. È il frutto di un'ingegneria biologica, non meccanica. E parla, la sua specificità è quella di parlare, di confrontarsi con gli esseri umani naturali. C'è davvero qualche cosa di importante. Pensate a Jonathan Swift, nei viaggi di Gulliver, voleva prendere in giro Leibniz, Leibniz è quello che ha inventato il calcolo digitale, e diceva che poteva costruire una macchina, la chiamava macchina universale, poteva fare tutti i calcoli. Swift lo prende in giro e immagina che Gulliver arriva da un popolo che ha inventato la macchina per creare le poesie e la letteratura. Noiosissime, bruttissime, ripetitive. Vi ricorda qualcosa di questi giorni? Vi fa venire in mente qualche cosa? Allora, c'è lì qualche cosa che noi possiamo provare ad andare davvero a interrogare. Ma se quel teatro della memoria, così architettonico, fosse una pre-rete neurale, un pre-machine learning, allora non è che forse interrogando non l'antichità, ma la maniera in cui noi pensiamo alla tecnologia che è in grado di risponderci, possiamo trovare delle risposte più vere del mero tecnicismo? Io sono convinto di questo. Quando arrivò in Italia le prime cattedre di informatica, qui mi rivolgo sempre al rettore, le prime si chiamavano di cibernetica, siamo negli anni, fine degli anni 50. Silvio Ceccato è il primo che scrive un volume in cui c'è la parola cibernetica, disciplina inventata da Wiener negli anni 50, poi diventa una disciplina di costruzione di linguaggi per la macchina appunto negli anni 60. Ecco, i primi a interessarsi a queste sono Umberto Eco, Italo Calvino e Nanni Balestrini. Ci stiamo parlando di letterati, Eco e Calvino si parlano a distanza, scrivono una serie di articoli rispondendosi sulla possibilità combinatoria della letteratura con le macchine. Nanni Balestrini fa di più, chiama l'IBM e a Milano nel 64 mette delle indicazioni alla macchina IBM e gli dice adesso fai delle poesie, fai un romanzo. Cioè ha messo dei prompt in una macchina e ha fatto Tristano. GT tra l'altro. Questa è la coppia numero 5377, ogni copia è diversa. È combinatoria pura attraverso dati elaborati da una macchina. Calvino ed Eco sono ammirati di tutto questo. Eco scrive la prefazione della mostra che realizza Olivetti con Mario Ciao a Milano di arte programmata. Munari, Mari, l'idea che il computer possa avere un'estetica oltre che un'intelligenza. Eco scrive la prefazione della mostra. È l'inizio di un'elaborazione in cui si interroga la macchina in una maniera culturale, umanistica, perché è quello il dato più vero. Non voglio sminuire, stavo scherzando prima sul togliere agli ingegneri dell'intelligenza artificiale, non voglio sminuire assolutamente il ruolo ingegneristico, ma bisogna ridare concretezza al ruolo invece filosofico, umano, che ci sta dietro. Stiamo parlando ora di media sintetici, è la nuova rivoluzione. Oggi c'era un articolo su Repubblica, non mi ricordo di quale giornalista che parlava di GTP3, come l'aveva chiamato, bellissimo, lo vorrei usare per un mio libro, Pappagallo stocastico. Se ci pensate è meravigliosa questa definizione. Però ci sta dicendo qualche cosa ancora una volta di noi, cioè ci sta dicendo delle nostre aspettative rispetto ai dati che produciamo, alla maniera in cui li produciamo. Una figura eclettica, che qua conosciamo bene, Primo Levi, sempre negli anni 60, affascinato dall'uso dei computer, scrive un racconto meraviglioso, si chiama Il Versificatore. Ne fecero anche uno sceneggiato TV, la RAI, con la regia sempre torinese di Massimo Scaglione. C'era Milena Vukotic. In questa un versificatore, cioè un operaio della poesia, per aiutarsi nel lavoro compra una macchina che ha la capacità di generare poesie. A lui cosa rimane da fare? Mettere i prompt. Deve dire questa poesia per un matrimonio, il matrimonio sarà in primavera, il matrimonio sarà la sposa, i sposi sono giovani e via dicendo, gli piace la musica barocca e la macchina non inventa, ricostruisce, come un pappagallo stocastico, ricostruisce le poesie. Nasce una crisi tra il versificatore e la sua macchina. Ed è interessante perché è una crisi di come la tecnologia è da sempre stato lo specchio dell'uomo. La tecnologia è lì per dire all'uomo chi è, con chi sta, dove comunica, in quale ambiente, quali sono i suoi fini, quali sono i suoi obiettivi. Ecco, io penso che le sfide oggi con i media sintetici, per esempio, sono quelle, non sono io a dirlo, dell'etica, i bias, la sostenibilità, poi loro ce ne parleranno sicuramente molto meglio, il ruolo nuovo dei data e del nostro contributo ai data, cioè sono delle bellissime riflessioni di Maurizio Ferraris a questo proposito. L'economia dei data, l'economia dei creators, qui si stava parlando di contenuti, della nuova economia generata da chi realizza contenuti, la creators economy è una parte significativa e sarà sempre più basata sull'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. Siamo passati in pochissimi anni a parlare di digital storytelling, poi di immersive storytelling, perché era il momento dell'avuare, del metaverso, adesso addirittura di synthetic storytelling. Due settimane fa è nato un corso, il primo in Italia, di prompt designer, cioè di persone che addestrano professionisti a immettere i prompt, il versificatore di Primo Levi, per creare qualche cosa di nuovo, in una nuova comunione tra umano e macchina. Joseph Leaklider negli anni 60 era uno dei matematici che ha realizzato ARPANET, il primo internet. quando lui prende gli appunti su quello che sta facendo dice una cosa secondo me fondamentale, quello che stiamo realizzando è la prima simbiosi uomo-macchina. Simbiosis vuol dire simbiosis, due biologie. Per la prima volta una delle due biologie non è fatta di genetica, di vita, ma è una biologia artificiale. Ecco, noi dobbiamo andare a recuperare e interrogare le macchine proprio in questa ottica di una bios culturale per affiancare chi poi ingegnerizza queste cose. E chiudo qua. Grazie. Grazie Simone, è stato un intervento veramente affascinante. Chiedo intanto di mettere le slide del professore Blesi. Io porto a casa un bel po' di cose dal tuo intervento. Intanto un elenco di libri che sicuramente voglio andare ad approfondire e a leggere. Poi il fatto che, come abbiamo visto nella storia anche letteraria, abbiamo esempi in cui si è cercato di portare, di creare un altro essere vivente, senziente. Tu hai citato a Frankenstein di Mary Shelley. E sappiamo che il risultato non è stato buono. La creatura viene rigettata perché ci si ritrovano dentro tutte quelle brutture che si cerca di buttare via dall'essere perfetto all'essere umano. E poi invece non facciamo altro che utilizzarlo e riprodurlo in quelle che sono le creazioni che andiamo a fare. Che siano fatte di carne, che siano fatte di numeri, di algoritmi, alla fine non sono altro che lo specchio dei nostri difetti. Perché alla fine, anche in quel caso, erano lo specchio dei difetti. E poi l'altra cosa, secondo me, molto interessante è la crisi di identità che vive la persona, il creatore, diciamo, che è costretto a migliorare, a trovare il modo di comunicare con la sua creatura, con la sua macchina. Tant'è che nascono nuovi mestieri, nuovi lavori. Direi che c'è un bel po' su cui riflettere stasera. Passerei la parola al professore Bosi. Grazie mille, Esther. Probabilmente, tu sei un po' di rile a gatekeeper, che pubblicazioni hanno, ma la cosa è che abbiamo parlato di artificial intelligenza e pubblicazioni oggi, e il corso è che anche gatekeeping è sempre automatizzato o si è automatizzato in pubblicazioni. Quindi comincerò a parlare di pubblicazione come un processo creativo e di quale role AI gioca in questo. Grazie per avermi passato la parola. Beh, allora, siamo qui per discutere il ruolo dell'editoria in quanto addetti come usceri dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'editoria stesso. Quindi il ruolo dell'editoria non è solo quello di tenere aperti o chiusi i cancelli, le porte, per fare entrare questa intelligenza artificiale che è già presente in realtà. I sistemi automatizzati sono già presenti all'interno del mondo editoriale o comunque stanno facendo, stanno muovendo i loro primi passi. Adesso approfondiremo un po' i modi in cui si può usare l'intelligenza artificiale all'interno del mondo editoriale e come la si può uspoltare al meglio. And because this is the situation and I will give you a couple of examples afterwards, I think it is a good idea for people in the creative industries, particularly in my case in publishing, start thinking what is really the core of publishing and what are the activities only we as humans can do and machines can't and we should get better in that and concentrate on that and train people to do that. Ok, quindi vi darò alcuni esempi di questo però verso la fine della mia presentazione innanzitutto io penso che sia una buona idea per l'industria, per il settore creativo e per il settore specifico in cui mi occupo io, cioè il settore dell'editoria andare a vedere il nucleo vero stesso dell'editoria e vedere quale attività solo gli uomini sono in grado di svolgere e le macchine non sono in grado di replicare e dovremmo investire di più e concentrarci di più su queste attività che sono più centrate sull'umano. And what I show you here, you don't have to look closely I only did that because there are analysis of what happens in a publishing house and this could be a map and we can go through the single points originally there's the author, there's the publishing house, there's the book wholesalers the book sellers and there's the readers and buyers and at every single step which that I exemplified here we could look if there are already algorithms and I can tell you for most of the steps there are at least prototypes and I will give you two examples. Quindi qui vediamo rappresentata la mappa del funzionamento di una casa editrice vediamo, non dobbiamo andare troppo nel dettaglio ma possiamo vedere appunto il ruolo dell'autore, il ruolo dell'editore il ruolo del grossista, del libraio, poi del lettore finale ci potremmo chiedere in quale di queste sezioni sono già presenti gli algoritmi praticamente ovunque o perlomeno sono presenti dei prototipi e vi darò degli esempi concreti di come si stanno utilizzando gli algoritmi in questo processo. This is the first example and it starts with an extreme example This is a book by Springer Nature, the academic scholarly publishing house and it has been published I think in 2018 or 2019 and it's entirely written by a robot you could say by an artificial intelligence By now there are a few more books of this type because this of course is not an original scientific contribution but it's an overview about research about lithium iron batteries and what this robot did it went into a database where all these journal articles are tens of thousands checked them, clustered them and then wrote summaries and summaries of chapters and someone told me that reading books about lithium iron batteries is never sexy but this is worse it's everything correct there but very very boring but it works and as I said Springer Nature kept on publishing research overviews created by machines Ok Quindi cominciamo con un esempio abbastanza molto concreto e abbastanza estremo il libro che vedete qui la copertina del libro che vedete qui nella slide è un libro che è stato pubblicato probabilmente tra il 2018 e il 2019 come potete vedere è un saggio sulle batterie a litio ed è stato completamente scritto da un'intelligenza artificiale da un robot se vogliamo chiaramente non è un lavoro di ricerca originale ma è un buon compendio di tutti i lavori che sono stati fatti nell'ambito della ricerca sulle batterie a litio come si è mosso questa intelligenza artificiale praticamente questo robot è stato avuto accesso ad un database dove erano conservate centinaia di migliaia di articoli su questo argomento l'intelligenza artificiale li ha controllati li ha raggruppati ha fatto dei riassunti di questi libri o dei riassunti anche specifici per ogni capitolo e il risultato è questo beh insomma chi l'ha letto dice che in generale leggere libri sulle batterie a litio non sia una lettura particolarmente sexy come dice il professore ma questo in particolare è particolarmente noioso comunque questa casa editrice che è una casa editrice accademica la Springer Nature sta continuando a pubblicare libri di ricerca che sono obiettivamente compendi redatti dall'intelligenza artificiale questo è il secondo esempio è un software prodotto di Lisa da una start-up in germany con Qualifixion e lo che è fatto è praticamente mimics automaticamente il lavoro di un editor e lo che è fatto è una macchina learning system o let's say in questo modo che ha visto They have seen the original text of a lot of bestsellers on the German market within the last years or decades. And they also know the bestseller position of these titles. So the aim was to learn, not according to rules, but according to deep learning, what makes a book a bestseller. And what this system now does, you can take a manuscript, upload it, and the system will tell you if it's a crime story or romance or what it is. And it will give you an estimation how many readers it could find based on the analysis of the past bestsellers. And just one more remark, I would say if you're a small publishing house which only publishes crime stories, why not reject a romance story on the basis, a romance love story on the basis of a machine? Because it's no point in having a person look over it if it's the wrong title for the wrong publishing house. Quest'altro è un programma che è stato sviluppato da una start-up tedesca, si chiama Lisa, che praticamente mima il lavoro di un redattore. Nello specifico per la creazione va a individuare quale potrebbero essere, quale libri potrebbero essere dei bestseller. Quindi questa intelligenza artificiale ha analizzato i bestselli, i migliori bestseller nel mercato editoriale tedesco degli ultimi 10-15 anni e ha praticamente estirpato delle regole, ha imparato a dedurre delle regole grazie al deep learning, all'apprendimento profondo e è riuscito a fare una stima di quanti libri potrebbero diventare bestseller. Per esempio, come si svolge il lavoro di questa macchina? Gli viene consegnato un manoscritto che l'applicazione analizza e riesce a dire se l'argomento del libro è un... se il libro sarà un libro giallo o un romanzo d'amore, per esempio, un romanzo romantico e riesce anche a fare una stima di quanti lettori potenziali potrebbe avere quel romanzo. Quindi questo lo fa basandosi sui bestseller del passato appunto che ha immagazzinati all'interno del proprio database. Quindi per cosa potrebbe servire questa applicazione? Bene, una piccola casa editrice che si occupa solo di romanzi gialli, per esempio, potrebbe analizzare i maloscritti che vengono sottoposti e rigettare, per esempio, quelli che riguardano storie romantiche, perché non interessano il campo d'azione di quella casa editrice. Quindi non ci dovrebbe essere una persona, un lettore, che viene pagato per reggere i romanzi per fare un lavoro che può benissimo fare la macchina artificiale. E' un'altra cosa, l'example che ho avuto ora, sono stati al corso del pubblico, quando si tratta di manipulare o creare texte, ma c'è molto più a la pubblicità del pubblico, come you know. E, per esempio, c'è un'e-book aggregazione company in Germania, che prendono i e-books e-books e distribuisce i all'e-book stores. E, per esempio, possono raccomandare i pubblici i-books' price actions sull'e-basisca di successo di pasto price actions, che significa che molti pubblici i-books hanno cambiato le prezioni di e-books per l'anno scorso l'anno. For example, it can be a good idea to lower the price during the holiday season because people then tend to buy their crime stories on e-books for holidays. And what this system does is, on the basis of hundreds of price activities in the last year, it will recommend to a publishing house, why don't you lower the price or even raise the price in June, depending on the weather, festivities, and so on, because the corpus of data is so big that they, in very much detail, can tell what kind of price changes can effect a success for the publishing house. And then, after that, I'll come to an end. Ok, quindi questo programma di Predicted Analytics è un altro esempio. Allora, qui abbiamo, fino ad adesso abbiamo visto degli esempi che riguardano l'aspetto principale delle case editrici, cioè la gestione e la redazione di un testo e la creazione di testi veri e propri. Ma, per quanto riguarda, possiamo anche utilizzare dei programmi diversi che si occupano di pricing, cioè dell'assegnazione del prezzo ai libri che vengono pubblicati in una determinata case editrice. Per esempio, questo è stato adottato da una case editrice, da un'azienda in realtà che si occupa di distribuire e-book presso vari librai e era stata fatta questa operazione commerciale per cui il prezzo degli e-book ha stato ridotto con poco preavviso in corrispondenza delle vacanze. Mossa sbagliata perché in realtà molte persone acquistano libri proprio in quel periodo e quindi il prezzo sarebbe dovuto essere più alto per far guadagnare di più le case editrici. E quindi, per esempio, questo programma può raccomandare a una determinata case editrice di abbassare e di alzare il prezzo in base al tempo atmosferico e in base al momento dell'anno, cioè se si è in presenza di festività o lontani dalle festività. Tutto questo può essere fatto grazie ai dati, all'enorme mole di dati che viene inserita all'interno di questo programma e che riesce a fare delle stime di prezzo veramente molto valide e molto attendibili. So, I'll skip this and come to this. In the beginning I told you that when there are more and more algorithms that help the publishing work, then it might be a good idea to start thinking about what the core is and where we certainly need people involved for high quality. and we took a couple of theories of publishing and looked at what they say is the main task or are the main tasks of publishing houses and then we checked to which of them there are algorithms on the market already and to which there aren't. And we thought the ones where there aren't any algorithms, they might be the real core and I'll tell you what they are. for example, to develop the profile of a publishing house because developing a profile doesn't work like this. You publish 100 titles and then you look with the help of AI what the profile of a publishing house is. It's the other way around. You start telling that's my profile and now I start publishing. Second one is actively find content. We talked about Elisa by Qualifixion. People send manuscripts to this system basically. But if you look for an author and you think as a publisher, this is an author who could write something interesting for the profile of my publishing house, something a machine can't do. And then everything connected to formatting in the right way and marketing in the right way, addressing the right people in the right language to convince them that's the product they should buy and read. So from the point of view of this panel and looking at publishing as a creative process, the ones that I have just mentioned are the areas where I would say with all the help the systems can basically provide, machines are not the right entities to do this. Thank you. Bene, ho cominciato dicendo che ci sono sempre più algoritmi presenti all'interno del lavoro di una casa editrice e ho cominciato anche a dire che dove sta, dove è necessario il contributo umano per migliorare la qualità o mantenere costante la qualità di quel prodotto editoriale. Allora, cosa abbiamo fatto? io e chi ha condotto questa ricerca con me abbiamo analizzato le teorie editoriali e abbiamo cercato, siamo andati nel dettaglio a vedere all'interno di queste teorie dove erano già presenti degli algoritmi o comunque si erano già studiati dei prototipi per sviluppare queste mansioni grazie a un algoritmo. E abbiamo trovato tre punti in cui non c'è presenza di algoritmi e io trovo personalmente che sia molto difficile utilizzare un algoritmo al 100% per svolgere queste funzioni. Prima di tutto sviluppare un'identità editoriale l'identità editoriale è una casa editrice bene, una casa editrice potrebbe pubblicare una serie di romanzi e poi affidare una macchina dotata di intelligenza artificiale che potrebbe dire che questi romanzi sono delle romanzi gialli o store d'amore e quindi dare il senso dall'identità editoriale di quella casa editrice. Ma se questa identità editoriale si volesse trovare a priori senza doverla affidare a una macchina questo è un punto dove l'umano gioca un ruolo importante. E poi abbiamo parlato di come questo oggetto, questo programma realizzato questa startup Lisa trova il contenuto all'interno dei romanzi ma se un editore trovasse e conoscesse un autore che il cui stile è interessante per la casa editrice quindi gli si potrebbe affidare un lavoro su commissione questo è qualcosa che la macchina non riesce a fare perché non si relaziona con l'umano in quanto autore ma solo con quello che produce. E infine il lavoro di formattazione il lavoro di formattazione è di lavoro di marketing anche di cura estetica del prodotto per raggiungere un determinato tipo di lettore che parla un determinato tipo di lingue. Bene, io penso che questi sono gli aspetti più creativi all'interno del mondo editoriale e nonostante noi possiamo ricevere un aiuto da parte delle macchine per svolgere meglio questi compiti sicuramente non c'è paragone rispetto al contributo umano riguardo queste particolari mansioni. Grazie. Grazie Christophe Blesi Faccio una domanda poi andiamo avanti però conoscevo Lisa di Qualifiction le case editrici ricevono centinaia di manoscritti e ha citato il caso dell'impiego di questo algoritmo per escludere dalla mole di manoscritti che arrivano quelli che appartengono a un genere che non è di interesse per l'editore. Ci può essere un impiego anche di tipo qualitativo non adesso ma magari tra qualche anno quindi ridurre il numero di manoscritti da prendere in considerazione con occhi umani attraverso una selezione fatta dall'algoritmo? I cannot really imagine this to happen because if you have say highbrow literature then typically high quality means or can mean something innovative which is not as the last 150 stories have been like Ulysses for example in the 1920s I can't imagine and for example probably and I know this is the case with literary publishing houses in Germany actually there are manuscripts sent in by just anyone and some of them are actually of value and probably no publisher would dare to have that automatically rejected this pearl non credo che si possa fare perché almeno non riesco ad immaginarlo perché di solito per quanto riguarda l'editoria l'alta qualità coincide con l'innovazione quindi è qualcosa che le macchine automatiche non riescono a ritrovare nel loro database perché è qualcosa di sconosciuto e così è l'effetto lo stesso effetto che ha avuto l'Olysse nella sua pubblicazione negli anni venti è stato qualcosa di sconvolgente molte le case editrici in Germania ricevono centinaia migliaia di manoscritti che sono scritti da chiunque e nessuno si sognerebbe di eliminare un manoscritto solo perché è stato valutato da una macchina perché potrebbe essere una cosa di valore che non è ancora stata scoperta quindi io non credo che ci potremmo spingere così a tanto e questo è tranquillizzante per tutte le case editrici passiamo a Marco Viganò grazie buonasera le mie slide adesso Simone arriva al punto di vista dell'ingegnere informatico fiero pigiatasti dall'età di 10 anni col Commodore 64 ecco quindi io prossima slide per favore io lavoro per con Denast che è una global media company e come vedete ha diversi brand fra cui Vogue Valentifair Wired per esempio e siamo presenti in diversi mercati nel mondo quindi da l'Italia Francia US Mexico eccetera e quindi per la nostra azienda è davvero molto importante tenere in considerazione tutto ciò che è legato all'intelligenza artificiale e oggi vi porto alcuni esempi su come noi abbiamo valorizzato i contenuti prossimo slide questo slide ci dice che tutti i dati che noi abbiamo nei nostri sistemi possono darci del valore aggiunto sono assolutamente dei dati che noi possiamo utilizzare e dobbiamo in qualche modo normalizzarli dobbiamo dare valore attraverso l'intelligenza artificiale vi faccio un esempio che cos'è un dato non strutturato Vogue Italia ha un archivio che si chiama Vogue Archive banalmente nome bellissimo per il marketing e questo archivio ha tutti i numeri di Vogue digitalizzati da 63 ad oggi non erano ancora nato è stato un problema digitalizzare numeri molto vecchi perché non erano appunto presenti in archivi digitali quindi fisicamente sono stati prenditi i numeri cartacei sono stati chiamati addirittura dei collezionisti che si sono utilizzati dei sistemi P.O.C.R quindi chiamiamoli fotocopiatrici evolute che permettono di leggere il contenuto non solo anche la geometria all'interno della pagina quindi per esempio se in alto a destra ho un'immagine o sto utilizzando un font l'O.C.R ci dà questa informazione perché abbiamo fatto questo perché attraverso l'archivio di Vogue abbiamo voluto mettere in relazione n dati per esempio fare una ricerca io voglio ricercare Armani per la sfilata del 76 a Milano con i vestiti di colore rosso facendo in questo modo abbiamo strutturato dei dati e li abbiamo resi disponibili dei nostri utenti prossima slide prossima ancora per quanto riguarda una media company quindi un editore come Contenast ci sono dei dati che sono davvero importanti sono le immagini quindi tutte le immagini che vengono caricate sui nostri archivi print o comunque vengono stampati oppure su tutto ciò che è social o sui nostri siti web il testo e gli utenti non solo questo è solo un subset dei dati su cui noi possiamo lavorare e fare algoritmi di machine learning perché per esempio se prendiamo dei video noi possiamo per esempio strapolare 25-30 frame al secondo che ci danno delle informazioni oppure possiamo attraverso un video fare transcribe di quello che c'è all'interno di quello che c'è parlato all'interno del video addirittura alcuni sistemi traducono in tempo reale e sottotitolano in tempo reale quello che avviene all'interno di un contenuto video i podcast sono un altro asset fondamentale per una media company tutto quello che noi pubblichiamo sui social è un altro dato importante con questi dati oggi ci soffermiamo su questi quindi immagini testi e utenti vi faccio vedere tre casi di studio prossima slide la prima è il riconoscimento delle immagini prossima questa foto che è bruttissima l'ho fatta io e io ero all'aeroporto e a un certo punto ho sentito del frastuono mi sono trovato davanti a me un signore gigante per chi come me è appassionato di pallacanestro questo signore si chiama Shaquille O'Neill è una stella dell'NBA però questo signore nella sua vita ha avuto n soprannomi Shaq perché è il suo nome Shaquille O'Neill si scrive con l'apostrofo boh a volte mi sbaglio pure io The Big Fella Diesel eccetera se noi demandiamo a un foto editor la taggatura manuale di questa foto si commette un errore perché devi essere un esperto di pallacanestro o un appassionato come me quindi abbiamo usato dei sistemi di taggatura in particolare uno che si chiama AWS Recognition di Amazon che permette di taggare le celebrity in modo automatico questo ha velocizzato il lavoro di un foto editor non deve assolutamente preoccuparsi di scrivere il tag di una foto quindi se voi pensate al MAM che è Multimedia Access Manager di un'azienda come Condenas dove contiene petabyte di immagini exabyte di immagini caricate dai nostri foto editor questo ha portato un time saving all'interno dell'azienda e quindi il foto editor ha potuto fare altre operazioni non solo tutte le immagini Shaquille O'Neill ora sono taggate correttamente quindi se cerco Shaquille me ne troverò tutte così come se cerco Shaquille O'Neill prossima slide questo è invece dedicato a ciò che rappresenta il testo all'interno dei nostri articoli attenzione questo grafo che state vedendo in realtà è un'astrazione di ciò che avviene su social media e poi vi dico il perché gli atomi sono gli utenti e i post questo viene definito come friends of friends o azioni che vengono fatte sui contenuti perché quando io vado su facebook o su linkedin a un certo punto mi viene proposto un amico che non conosco una persona che non conosco sono sicuro che stasera qualcuno per questo intervento mi verrà proposto su linkedin perché io sono in relazione con queste persone quindi per esempio ho scritto un post ho fatto like sono amico di una persona che amico di un'altra persona questa metodologia di legare i contenuti si chiama collaborate filtering quindi l'abbiamo utilizzata per creare cluster di contenuti legati alla navigazione dell'utente quindi se un utente per esempio su Vogue sta navigando dei contenuti dedicati al fashion sicuramente non proporrò a meno che di parlare di certe tipologie di ricette ma delle ricette che parlano magari del tiramisù perché non c'entrano proprio nulla prossima slide oltre al collaborate filtering quindi quello che stiamo vedendo è come condenasta ha creato un sistema di recommendation per i contenuti quello che facciamo è pulire e fare text cleaning quando si fa text cleaning ci sono alcune cose che vanno tolte per esempio delle stop words quindi virgola comma semicoma eccetera alcune tipologie di contenuti se le parole sono troppo frequenti vengono eliminate dal sistema di natural language processing che sono i sistemi che analizzano il testo che c'è all'interno dei contenuti prossima slide questo è come una macchina ha trasformato giuro che non l'ho fatto apposta a parlare del Napoli per lo scudetto o altro io sono milanista quindi sono messo malissimo ma una macchina prende in considerazione fatto 100% il testo di un articolo il contenuto che è significativo per effettuare delle ricerche e strappolare dei topic viene ovviamente elaborato in questa statistica legata delle operazioni che abbiamo fatto è il 34% come vedete per esempio i verbi sono stati tutti coniugati all'infinito per esempio la prima frase da facendo a fare sono state rimosse alcune parti legate al testo sono state rimosse alcune parole che sono sempre frequenti perché la macchina ha elaborato il contenuto e ha iniziato a capire e a trasformarlo per poterlo rendere disponibile all'interno di un sistema di raccomandazione prossima slide quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo messo insieme le due cose il collaborate filtering quindi la navigazione dell'utente fatta a cluster ma anche cosa dice il contenuto e questo ci ha portato a creare una matrice di similitudine prossima slide questo grafico che vedete spero si veda bene tutti quei punti sono gli articoli in questo caso di Vanity Fair che creano una costellazione di correlazione dove vedete i contenuti molto aggregati vuol dire che l'utente ha navigato dei contenuti questi sono stati normalizzati vengono rappresentati e estratti i topic da ogni singolo testo degli articoli e la navigazione in cui l'utente si sta trovando in quel momento suggerisce il contenuto più vicino quindi il sistema di recommendation ha sistemato il testo ma ha anche capito la storia degli utenti all'interno dei nostri sistemi prossima slide ora vi faccio vedere invece un esempio il terzo esempio legato alla cucina quindi che cosa possiamo fare con le ricette ci sono tre brand di Condenast che parlano di food uno è la cucina italiana sul mercato italiano uno è Epicurious con più di mezzo milione di ricette e Bon Appetit sempre negli Stati Uniti che parla appunto di ricette qual è il problema dal punto di vista redazionale se noi chiediamo a un redattore di prendere un testo fatto in formato Word e caricarlo su un content management system quindi un sistema editoriale è davvero noioso chiedere al redattore metti step by step gli ingredienti che ci sono all'interno della ricetta tirami su e le unità di misura questo fa perdere molto tempo quindi i sistemi che noi abbiamo scritto estrappolano gli ingredienti dalle ricette prossima slide e non solo oltre agli ingredienti noi dobbiamo capire l'unità di misura questo è un di cui ma anche capire alcuni punti che possono essere importanti per esempio la ricetta che stiamo facendo se avanziamo del cibo va bene per i nostri animali oppure quello che noi stiamo facendo è ecosostenibile ci sono dei dataset che ci dicono se un certo ingrediente qual è la sua emissione di CO2 se noi vogliamo utilizzare questo ingrediente in una nostra ricetta prossima slide questa è è un classificatore spero si veda bene ma i nostri data scientists hanno sostanzialmente creato una classe tassonomica che vedete sulla testa sulla destra dove ogni ingrediente viene classificato quindi possiamo parlare di latte derivati possiamo parlare di cibo animale di origine vegetale eccetera questo perché dato un testo in input ha fatto sì che l'output di questo sistema di machine learning fosse la classificazione dell'ingrediente stesso perché poi viene fatto questo perché sopra a questa classificazione siamo stati in grado di ricavare le unità di misura ma anche le calorie legate a una certa ricetta ovviamente per motivi legati a costruire le diete per i nostri utenti prossima slide e un'altra cosa importante è anche estrapolare le unità di misura una macchina è stupida non sa cosa vuol dire un chilo di pollo come fa a classificare un chilo di pollo non lo può fare fin tanto che noi non creiamo un sistema di machine learning di estrapolazione di dati dei nostri contenuti altra cosa importante come vedete sotto in inglese quanto pesa OneApple per esempio quanto pesa il clove garlic oppure quando si dice sale quanto basta che cosa significa anche questa può essere rappresentata da una media legata a un dataset quindi una mela può pesare x grammi e quindi far parte della classe tassonomica delle nostre ingredienti ma anche darci valori nutrizionali prossima slide questo è la ricerca che vi dicevo in precedenza c'è un dataset open scusate mi dimentico qual è l'università che l'ha rilasciato ma giuro che poi lo condivido ci dice se stiamo facendo impatto sull'ambiente per esempio in primavera se voglio fare una ricetta con le arance sicuramente farò un impatto ambientale perché le arance non sono presenti in primavera oppure se voglio prendere l'avocado che non è di origine italiana e arriva dall'altra parte del mondo ho un dataset che mi sta dando delle informazioni importanti per capire quali sono le emissioni di CO2 che sto portando nella mia ricetta prossima slide questa è l'ultima la circular economy sempre per legato a insomma evitare gli sprechi per esempio sto cucinando sto cucinando qualche cosa con il cioccolato non andrà bene al mio gatto al mio cane quindi anche qui abbiamo fatto una ricerca una classificazione delle ricette affinché ci siano informazioni importanti dettate per riciclare o usare gli avanzi delle nostre ricette per i nostri animali quindi come avete visto sono esempi che ci aiutano a dare valore al contenuto che viene scritto dai nostri redattori per ognuna dei brand che è condenata appunto al suo interno prossima è finita sì esatto grazie Marco finalmente forse un algoritmo risolverà il problema del quanto basta che è veramente per chiunque cucini hubi cubi cubi quel benetto quanto basta il famoso quantitativo del cucchiaino un cucchiaino beh sicuramente avete notato che molti degli algoritmi citati da Marco per quanto riguarda le ricette sono in realtà già utilizzati da molto tempo anche in altri sistemi che utilizziamo quotidianamente si è parlato del collaborative filtering di cui sicuramente utilizzerete a maggior parte utilizzano Spotify Netflix tutti questi sistemi on demand utilizzano questi stessi sistemi così come il recommendation system utilizzato notoriamente da Amazon quando ci suggerisce se hai comprato la macchina fotografica magari ti interessa la crema solare uno si chiede perché beh fondamentalmente perché spesso magari viene usato in vacanza oppure un amico ha comprato quello quindi probabilmente converte e quindi la macchina lo propone secondo me ci sono anche in questo caso diversi spunti perché da una parte ci viene detto ha ragione l'abbiamo visto con le ricette che è possibile combinare degli ingredienti ed estrarre delle informazioni da questi ingredienti per avere il CO2 o per diminuire rischi allergeni o insomma avere una maggiore sostenibilità ambientale dall'altra però un po' riprendendo quello diceva Christophe perdiamo forse quella creatività un po' in cucina che ci fa aprire il frigorifero e ci fa dire cosa c'ho in frigo stasera come li combino questi ingredienti ed è la stessa cosa del scovare il manoscritto e analizzare in maniera creativa un manoscritto quindi io vi lascerò ancora prima dell'intervento con Marina con quest'altro interrogativo mentre ci stiamo interrogando se la macchina può essere creativa dall'altra vediamo che in alcuni casi viene usata per valutare la creatività ma la creatività è spesso radicata nell'ambiente culturale in cui si è generata quella creatività e in cui come viene interpretata a sua volta da un'altra probabilmente cultura che la sta leggendo come fa un'intelligenza artificiale che non ha una cultura se non quella che le è stata data ma non vissuta come fa a interpretare la creatività di qualcun altro può essere creativa forse può interpretare la creatività di qualcun altro vediamo lo faccio dire a Marina no così così d'amblè proprio ma provo provo a prendere un po' di spunti essendo l'ultima io lo confesso non mi sono preparata a un discorso perché ho pensato che insomma avrei avuto talmente tanti spunti perché spesso me li preparo e poi alla fine dico una cosa diversa allora ho detto vabbè è inutile no mi sovviene un po' questo poi arriviamo anche alla creatività però parliamo di intermediazione no l'editoria alla fine è intermediazione io potrei pubblicare centomila articoli e invece scelgo quelli che il mio giornale pubblica nelle x pagine che sono a disposizione no quindi ho una quantità di spazio finita e scelgo sulla base sulla base delle mie idee del mio obiettivo che cosa mostrare ma ormai la gran parte dell'informazione non viene fatta su della carta che ha una quantità finita di spazio viene fatta sui social network e sulle news online che hanno una quantità infinita di spazio e anche una quantità infinita di vogliamo chiamarle notizie notizia è qualunque post scritto da chiunque sono sicura che non arrivano solo a me perché persino su LinkedIn arrivano post della qualunque non parliamo di Facebook e di altri social network o di Instagram o di TikTok tutti questi secondo me una domanda che dovremmo farci come diciamo tornando all'inizio di tutto il discorso degli stimoli che ha dato Simone è come come umani come individui come cittadini siamo consapevoli di quanto le informazioni a cui siamo esposti dipendono non da una mente editoriale che ha un obiettivo discutibile condivisibile ma almeno ha un obiettivo un'ideologia politica eccetera dipendono da un algoritmo e qual è l'obiettivo dell'algoritmo se ci pensate tutti i sistemi che noi usiamo sono a scopo di lucro e quindi giustamente mirano a fare soldi come fanno i soldi con i nostri occhietti che guardano più rimaniamo attaccati al nostro social più questi fanno i soldi perché ci propinano la pubblicità è un modello di business vecchio come il mondo è sempre lo stesso non è cambiato dalla televisione di Berlusconi degli anni 80 cioè ti faccio vedere quello che a te piace vedere perché voglio farci i soldi non mi frega niente di educarti di farti pensare a una cosa all'altra questa cosa però dai e dai ci condiziona e condiziona anche la società se ci pensate più siete acculturati meno immondizia digitale vi arriva io non credo che a voi se siete qua arriveranno tante news che vi cercano tanti post che cercano di conigire che la terra è piatta no o che c'è i 300 che governano la terra che hanno un complotto perché insomma tutte queste cose stranissime a chi arrivano alle persone meno acculturate alle persone più deboli le persone che avrebbero più bisogno invece di essere portate a riflettere a avere delle informazioni credibili no quindi in realtà questa intermediazione algoritmica all'interno della diffusione dell'informazione ha un impatto molto grande sulla società sull'umano e sul suo fatemolo chiamare libero arbitrio libertà di pensiero ed è una cosa a cui noi facciamo molto poco caso forse perché siamo anche i privilegiati che riescono ad avere i contenuti essendo più acculturati avremo anche dei contenuti che in realtà poi ci stimolano interessanti però se uno la pensa in the large è molto facile essere condizionati e in realtà poi come abbiamo visto con lo scandalo di Cambridge Analytica ma anche con la Brexit i social media sono anche degli strumenti con cui si può fare della propaganda perché per il motivo che è stato spiegato perfettamente da Marco prima Marco dica no perché è talmente facile per gli algoritmi capire cos'è che ci piace sulla base di quello che facciamo delle nostre tracce digitali che se noi vogliamo convincere una fascia di popolazione incerta che è sempre quella su cui mirano le campagne elettorali a pensarla in un certo modo tutun 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 gli facciamo arrivare certi messaggi in continuazione e questa massa la spostiamo facciamo il famoso nudging lo facciamo col marketing facciamo comprare alla gente cose che magari non comprerebbe e vabbè ma lo facciamo anche sull'informazione facciamo pensare alla gente cose che non penserebbe e poi succede una cosa come la Brexit e io mi permetto di suggerirvi di ascoltare un TED talk vi do le keyword perché il nome di questa donna è impronunciabile si chiama Carol ha un sacco di consonanti ed è una giornalista della Gran Bretagna e se cercate tipo Brexit Facebook condizionamento informazione e Carol la trovate è un talk illuminante su queste cose come anche queste cose minano poi le fondamenta della democrazia ad esempio il fatto di non poter usare tutti i soldi che vogliamo per la campagna elettorale li usi sui social nessuno te li traccia oppure una coerenza di comunicazione sui social tu puoi dire cose diverse lo stesso candidato può dire due cose opposte a due gruppi di persone diverse senza che nessuno lo sappia perché poi i post spariscono e quindi nessuno sa che è stato convinto a votare per Trump perché difendiamo l'America e quindi diamo le armi a tutti oppure difendiamo l'America e proteggiamo i nostri figli dalle armi e nessuno saprà mai che ha detto due cose opposte e si è preso i voti e così via quindi in questo senso l'intermediazione editoriale degli algoritmi a scopo di lucro che è quello che in cui siamo immersi è qualcosa su cui secondo me bisogna sensibilizzare sensibilizzare noi stessi sensibilizzare gli altri e cercare di arrivare a una a una forma di non lo so regolamentazione controllo qualche cosa diciamo che siamo all'alba sono appena cominciate queste cose per cui insomma io spero che nel tempo andranno avanti invece riguardo alla creatività e alla a quello che si diceva prima della capacità di giudicare la qualità a parte che ai miei tempi andava tantissimo di moda un libro che era lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta dove il concetto di qualità era come dire era proprio sul concetto della invalutabilità della qualità se non come insomma una vabbè leggendolo se non l'avete letto e secondo me mai come in questo caso si può applicare cioè io ritengo che ecco non so se chi non è un tecnico noi famosi non ingegneri o comunque chi non bazzica l'intelligenza ha chiara questa cosa è anche perché questo nome che le hanno dato è veramente fuorviante l'intelligenza è veramente stupida cioè non c'è niente di intelligente perché è statistica e sembra impossibile perché quando voi dite a una macchina gli fate un prompt e dite genera una montagna innevata con gli sciatori che scendono in un fiume e questo ti genera una montagna innevata con gli sciatori che scendono in un fiume e dici ma come fa a essere statistica è statistica perché a un bambino tu gli fai vedere tre volte una montagna innevata gli sciatori magari non lo disegna tanto bene ma lo impara alla macchina devi far vedere centinaia di migliaia di montagne innevate centinaia di migliaia di sciatori quindi di immagini taggate con queste cose e lei fa una statistica cioè statisticamente come sono distribuiti i pixel con quali colori con quale luminanza con quale distribuzione e questo compone una roba che per la macchina è una distribuzione statistica ma lo sciatore sta dentro di noi che lo guardiamo e lo interpretiamo come sciatore ed è il motivo per cui se avete visto dei chiapolavori forse è una parola grossa però produzioni artistiche delle AI sono belle ma la bellezza è nei nostri occhi non è nell'intelligenza artificiale sono belle perché questo essere un po' statistiche fa tutto un po' accennato un po' tratteggiato e quindi nella nostra mente di umani noi immaginiamo quello che non c'è quindi ci mettiamo tanta bellezza ma la bellezza mai come in questo caso sta negli occhi di chi guarda per cui diciamo la creatività non c'è la creatività è nell'umano che riesce a tirar fuori dalla macchina qualche cosa che lo emoziona e che sa che emozionerà gli altri quindi la macchina è un mero strumento statistico il famoso papagallo stocastico per cui e l'altra cosa riguardo alla valutazione della qualità è che la gaussiana la conosciamo tutti anche i non matematici conoscono la curva della gaussiana dove in mezzo ci sta la media fondamentalmente la grande massa sta tutta in mezzo nelle due codine ci stanno quelli alti due metri dieci quelli altri un metro cinquanta cioè le rarità ma la nostra società diciamo l'evoluzione degli umani dell'umanismo viene dalle codine non certo dalla media delle persone sono i dissidenti sono quelli che si fanno delle domande scomode che vanno contro che cambiano lo status quo che ci fanno evolvere l'intelligenza artificiale sta proprio in mezzo quindi la paura è se facciamo giudicare l'intelligenza artificiale poi chi è che invece farà evolvere la società e cambierà lo status quo e quindi vi lascio con questa domanda grazie Marina la media in effetti non ha mai portato molto lontano bisogna dire c'è anche da dire che dalle nuove eccezioni da quello che poi è appunto appunto dall'aspetto creativo è quello che può sorgere magari la domanda magari il dubbio perché altrimenti è un po' come si si ritornava a quello che dicevi leggiamo sempre le stesse notizie però tu parlavi di questa divisione no? tra le persone che hanno una maggiore cultura e quindi non ricevono determinati tipi di notizie invece chi proprio perché clicca in maniera compulsiva il che verdura sei no? tutte queste tutte questi questionari così sulla personalità alternativa riceve un altro certo tipo di informazione questo però può rischiare anche di portare delle bolle informative no? le bubble news le cosiddette bubble news dove continuiamo a rivedere sempre le notizie che vogliamo vedere quindi di nuovo ma sia da una parte che dall'altra quindi sia da chi è a una maggiore cultura a chi ci prova magari o ci vorrebbe provare ma non riesce più a uscire da questo gorgo quindi forse avere i confini sempre un po' sfumati buttare un occhio anche su chi magari ha meno ambizioni culturali ma anche d'altra parte contaminarsi ha sempre un certo valore che l'intelligenza artificiale non ci permette tanto di fare no? Tu che dici Simone? Ascoltavo ascoltavo Marina mi viene in mente la facilità con cui adesso da qualche mese soprattutto con ChalGPT adesso la facilità con cui si possono creare contenuti no? E adesso la creazione di un contenuto giornalistico oppure di vago intrattenimento è alla portata di chiunque no? e come abbiamo sentito è un contenuto piano poco interessante poco accattivante ma comunque capace di riempire uno spazio e questo strumento potrà creare una sorta di rumore di fondo no? Un proliferare di notizie contenuti informazioni sempre uguali sempre un po' noiose ma che costituiranno una base pervasiva e allora quello che mi domando è se in questo rumore di fondo il contenuto di qualità quello prodotto dall'essere umano potrà emergere per differenza o seppure diventerà più difficile da individuare c'è una risposta veloce dopo Marina no volevo dare una risposta veloce a questo su due velocissime due case che mi sono capitati uno era un libro che consigliai alla casa editrice per cui scrivo normalmente che è in Audi gli dissi guardate c'è questo libro fantastico Ed Finn cosa vogliono gli algoritmi punto interrogativo ed era un libro che rifaceva la storia dell'algoritmo famoso di Netflix e a un certo punto c'è la storia proprio fatta l'algoritmo era stato creato e dice deve essere una serie gli episodi deve essere di 42 minuti il protagonista deve essere Kevin Spacey la moglie deve essere Robin Wright tutto diceva tutto poi a un certo punto e per i nostri spettatori dice il regista deve essere David Fincher a questo punto l'autore dice cavolo e David Fincher come fa la regia e l'algoritmo risponde e no se noi vogliamo David Fincher è la sua creatività che vogliamo io qui mi fermo pazzesca sta cosa ma guarda è successo veramente così a me è successo un altro caso due o tre anni fa chat gtp era solo in fase beta quindi si poteva era dato solo ad alcuni io dovevo scrivere un articolo per il sole 24 ore su chat gpt e mi sono passato una intera serata con un amico che posso citarlo è Massimo Chiriatti pensa che vita sfigata che ho passo la sera con chat gtp con Massimo Chiriatti che è bravissima persona e abbiamo cominciato a giocare gli abbiamo messo dentro l'inizio di Asilvia di Leopardi gli abbiamo messo dentro l'intro di D'Annunzio e lui cosa faceva? faceva il pappagallo stocastico cioè rifaceva un po' l'infinito di Leopardi cambiava un po' faceva usava il linguaggio leopardiano il linguaggio ungarettiano poi gli misi nel mezzo del cammino di nostra vita bagliore la macchina ci pensa un attimo e mi rifà Dante precisamente come a dire vabbè qui mi fermo cioè ragazzi va bene un garetti ce la facciamo Montale gliela facciamo Dante non scherziamo Dante e mi ha rifatto le prime sei terzine dell'inferno di Dante uguali anche nella punteggiatura è ovvio io ci sto ricamando sopra era ancora in fase beta e quindi non è riuscito a elaborare però è interessante io l'ho letto come diceva Marina siamo noi che poi leggiamo l'ho letto come una resa e vabbè ma di fronte a quella creatività lì non si può fare niente bello mi piace questa storia sì sì mi guarda sempre chi c'è le palle no questo mai mi sono dimenticata cosa mi hai chiesto perché sono stata catturata dalla sua se nel rumore di fondo che si creerà sarà più facile o più difficile individuare i contenuti no dipende se faremo giudicare l'intelligenza artificiale sarà molto difficile perché se ci pensi anche non so il primo Stefano Benni o anche banalmente Baricco le prime cose che ha scritto hanno veramente cambiato radicalmente il modo di scrivere quindi qualunque algoritmo avrebbe detto ma come curriculum se ci pensate anche con i curriculum non so se avete letto questi sistemi automatici ci sono aziende che ricevono migliaia di curriculum e vengono scartati da un'intelligenza artificiale che guarda le cose e a parte i vari scandali perché il genere bla 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 ma in uno di questi articoli c'era un curriculum bellissimo completamente visuale tutto dipinto con una visualizzazione eccellente del percorso di studi veramente meraviglioso e la macchina l'aveva scartato poi dei selezionatori evidentemente ha avuto la fortuna di catturarlo però proprio le cose più di qualità rischiano di essere scartate quindi secondo me dipende da quello io approfitto ancora un minuto e dico una cosa non vorrei che fosse io ho alzato una bandierina sulle cose su cui bisogna stare attenti in realtà se ci pensiamo a volte spendiamo un sacco di tempo a scrivere delle introduzioni di cose che sono veramente banali però vanno scritte perché se tu scrivi per il grande pubblico di una cosa che il grande pubblico non sa devi fare la famosa introduzione e tutte le introduzioni sono un po' uguali cioè quando alla fine devi scrivere sta roba per la centesima volta quindi avere un sistema che ti prende tutte le introduzioni gli dici senti scrivimi un'introduzione con linguaggio tale e tale su questo tema perfetto cioè secondo me è meglio di GPT3 farà GPT4 quindi per tante cose può essere utile perché non è che sempre dobbiamo fare il contenuto originale a volte servono delle forme di divulgazione di raccolta quindi da questo punto di vista sarà estremamente utile non ci dimentichiamo che però appunto l'originalità che la macchina accetti o no ma insomma dobbiamo mettercela un po' noi ecco io vorrei aggiungere una cosa vai gli editori come fanno come monetizzano su web quindi chi fa solo un sito web lo fa attraverso l'advertising quindi quando un commerciale arriva ad un editore e dice voglio più inventory l'inventory che cos'è? ho un sito che genera un milione di pagine viste al giorno se ho un milione di pagine viste al giorno posso vendere un milione per x posizione pubblicitaria all'interno del sito stesso se il commerciale arriva a dirci ho l'inventory a tappo si rischia di avere una proliferazione di articoli fatti male con chat GPT o senza personalizzazione per aumentare l'inventory qua c'è un rischio grave di avere n pagine generate automaticamente solo per avere SEO quindi portare gente sui propri siti senza dare valore aggiunto poi ci sono altre tipologie di trattazione dei contenuti per esempio c'è un sito di Vogue che si chiama PhotoVogue i quali redattori approvano manualmente ogni foto che viene caricata dagli utenti per stabilire una qualità elevata loro sono fotografi di un certo tipo vengono caricate 50.000 foto al giorno UGC dagli utenti le approvano una manualmente e qua c'è una qualità allucinante ma il rischio di aumentare le page view e il numero di articoli scritti sui siti solo per portarsi a casa da parte commerciale è altissimo grazie questo effettivamente è un tema molto rischioso per il pubblico perché rischiamo di avere tantissima spazzatura in giro semplicemente per riuscire a tirare su un po' di soldi esatto io chiuderei questa serata con l'intervento di Guido Saracco sei in piedi? io in ginocchio no se mi date una sedia aspetta prendiamo la cosa del pianoforte è l'unica cosa che aspettiamo prendiamo la mia dai mi hanno messo nel mi di del tu per favore allora io vabbè qua così no no tranquilla tranquilla sono già caduto n volte dalle pedane delle cater delle aule del Politecnico bene intanto è stato molto piacevole anticipo che sono un chimico come Primo Levi che è stato citato e che anche la chimica oggi viene stravolta dall'intelligenza artificiale nel senso che avete presente la Solvay che ha vicino ad Alessandria un impianto dove fanno i polimeri frumurati con cui ci fai le pentole antiaderenti hanno applicato Big Data intelligenza artificiale al controllo di quell'impianto che si controllava come ho imparato io a fare un ingegnere chimico controllo di livello scende il livello metto il liquido piuttosto che temperatura sale allora mando più refrigerante così veniva controllato adesso viene controllato con sensori nuvole di dati algoritmi che non si sa come mai ma sono riusciti a far sì che l'impianto producesse 20% in più davvero siamo entrati in un qualcosa che non è come dire gestibile immediatamente dalle capacità dell'uomo anche se si fonda su basi logico deduttive perché l'intelligenza artificiale non è intelligente è semplicemente forza bruta di calcolo che arriva delle cose a cui non riusciamo ad arrivare immediatamente noi allora io per commentare quello che ho sentito vi invito a leggere un libro che ha scritto Piero Bianucci che è quel come dire giornalista che ha seguito Piero Angelo nell'ultima parte della sua carriera e che è un caro amico e il libro si chiama Creativi si nasce o si diventa la risposta è che la nostra creatività ha un luogo fisico il nostro cervello io parlo per quelli come me che sono destri ha la parte sinistra che è la sede del pensiero logico deduttivo quando il professor Arcani si riferiva all'ingegnere all'ingegnerizzazione si riferiva a questo tipo di processo cioè quello che deduce e ingegnerizza come si dice tu crei qualcosa poi lui te la ingegnerizza il pensiero logico deduttivo è in fondo quello con cui noi al Politecnico abbiamo educato ingegneri da quando siamo nati per servire alla rivoluzione industriale basi scientifiche dure matematica fisica chimica poi arrivata l'informatica e poi metodi ingegneristi calcolo che faceva sì che si potessero fare dei dimensionamenti attenzione che esiste la parte destra del cervello la parte destra del cervello ce lo dice ce l'ha detto un professore che si chiama eduardo del bono che è mancato l'anno scorso ma si occupava di questo tipo di logiche è la sede del pensiero laterale o divergente cioè quello che invece che lo convergente o lineare deduce in modo ordinato e rigoroso comincia a vedere le cose di lato comincia a scardinare i modelli e questo l'intelligenza artificiale non lo fa ancora attenzione che dico ancora perché ci chiudo poi alla fine sul fatto che purtroppo temo che arriveremo anche a questo a battere questa frontiera cosa capita è che nel pensiero divergente andiamo ai paradossi le cose che ci fanno sorridere le cose che nei prodotti artistici ci appassionano l'umorismo è quella sede lì una battuta come lei è tuttologo anche non la capisce oppure una coppia uno dei due fa ma i preliminari dopo questa roba non la tira fuori un computer questa è ancora proprietà nostra ed è quella parte che anche il professor Blasi indicava con qualcosa ecco queste cose non riescono ancora a farli i sistemi che possono aiutare gli editori allora c'è di più oggi io parlo del mio mondo cioè quello dei prodotti dei servizi che vengono dell'innovazione delle start up i processi di innovazione di creatività non dipendono neanche più da un singolo autore ecco voi siete abituati a ragionare di un singolo che scrive in realtà si può anche scrivere un libro in due o anche in più persone io ad esempio sto scrivendo tieniti io ho appena finito di scrivere un libro con Maurizio Ferraris che si chiamerà Tecnosofia perché è un tecnologo un filosofo insieme nitroglicerina adesso lo daremo a un redattore della La Terza che sarà un uomo io sono sicuro che sarà un uomo per fortuna ancora per un po' ci saranno gli uomini a fare questo mestiere e lo presenteremo al Festival Internazionale dell'Economia di giugno di quest'anno allora questo per dire che oramai i processi di creatività lo dice anche Renzo Piano in una sua metafora dipendono spesso da più persone lui fa l'esempio di una partita di ping pong in cui uno parte con un'idea da un colpo e poi gli altri continuano da un abbotto all'altra di tutte le idee quella che poi approda essere qualcosa di interessante dico ingegneristicamente oppure artisticamente sono una su cento però questo processo vede tante persone tante discipline convergere vedi un filosofo e un tecnologo sono proprio gli estremi ma in mezzo ci stanno gli economisti gli scienziati eccetera e questo di nuovo rende ulteriormente lontana la macchina dall'uomo attenzione però perché il cervello è fatto dei neuroni la replica di un cervello su un computer si chiama rete neurale che viene alimentata con quella forza brutta e che adesso i computer cominciano a far sì che reagisca un pochettino diciamo così meglio si è alimentata da tantissime immagini le categorizza eccetera però esiste una parte del cervello che si chiama connettoma che è quella dove avviene la plasticità cerebrale le connessioni tra ricordi che sono stoccati su una corteccia cerebrale e quella parte lì è di ordine di grandezza ancora più complessa però è già partito un progetto che l'ha decritta e con la velocità che hanno i computer nel gestire i dati non è assolutamente detto che non arriveremo anche a avere una replica di quel tipo di parte del nostro cervello perché poi alla fine è tutto lì è tutto qui dentro quello di cui stiamo parlando se tu arrivi a replicarlo nella sua complessità allora non riesci più a distinguere l'intelligenza artificiale e ci sono alcuni che sostengono che questo capiterà tra 25 e 30 anni quindi rischiamo ancora di vederla questa cosa che adesso aborriamo e critichiamo due cose che mi ha fatto venire sempre in mente Arcagni e che gli do lì se io avessi fatto il tuo discorso iniziale avrei usato questi due esempi intanto cibernetica mi ha ricordato UFO robot mangia libri di cibernetica insalate di matematica io lo citerei perché è un'altra cosa interessante e poi questa non credo che tu la sappia perché io sono un fan o meno lo ero ma ancora risento di un gruppo tecno che si chiama The Prodigy i The Prodigy strafatti tutto quello che volete uno si è ucciso purtroppo mi dispiace moltissimo ma avevano ideato una canzone si chiama Memphis Bell che era fatta di variazioni su un tema ognuno si comprava la sua cosa era un pezzo unico come i non fungible tokens che girano sui blockchain in questo momento un altro esempio che ti suggerisco che scrivi tanto su queste cose di esplorare perché mi aveva affascinato ovviamente avevano già fatto fuori tutte le variazioni quando andavo lì a comprarlo perché era un numero finito relativamente piccolo questo per dirti che l'ingegnere adesso almeno quello che stiamo cercando di formare a Politecnico è diverso da quello che tu hai in testa o comunque lo usi come macchietta ma lo sai che non è così noi stiamo cercando di fatto di fare l'ingegnere creativo questo è un mio mantra che sembra un ossimore in realtà nulla come un ingegnere che crea una tecnologia che di nuovo è vero è uomo la tecnologia e questo lo pensa a Ferraris lo pensa a Floridi ma lo abborrono tutta una serie di filosofi Cacciari Galimberti che invece in realtà chi è che crea la tecnologia? l'uomo lo fa per uno scopo tendenzialmente ha sempre un obiettivo quindi in qualche modo crea qualcosa che non c'era prima Piero Angelo che accennava prima dice la scienza è conoscere di più della realtà con quella conoscenza poi tu vai nella tecnologia e la tecnologia è creazione dell'uomo quindi è un'opera d'arte se vogliamo che è fatta per un certo tipo di obiettivo e tra gli obiettivi una delle cose che esploriamo in questo libro noi abbiamo parlato del fatto che tu l'hai detto i dati hanno un valore diamo un valore a questi dati purtroppo come dicevi invece tu Marina il problema è che il valore lo stanno prendendo le big tech che ci usano nella nostra come dire divertimento andare a scambiare con motivi dando diritti verso il loro obiettivo di tipo commerciale esiste una quantità di dati che in realtà noi non abbiamo fruibili in questo mondo qua che sono i ricordi delle persone delle tante persone che non sono nativi digitali ricordi che secondo me hanno qualcosa di creativo perché sono stati accumulati con le lenti di chi viveva in un certo contesto e quindi in qualche modo hanno un pezzo di creatività a volte sono sfocati come dicevi tu di quella roba e li vedi in un certo modo io penso che recuperare i ricordi delle persone di una certa età io ho rammarico di non aver interrogato abbastanza mio papà che non c'è più potrebbe essere estremamente interessante per uno stato che diventa imprenditore del suo popolo e comunque regista dei servizi che gli dà mica ha detto che siamo condannati a avere che i dati li gestiscono solamente le big tech lo stato è il possessore di dati più straordinario che c'è non li sta usando anzi adesso pensando solo per i fiscoli usa per cui indietro col post indietro con le carità in realtà Colavo ha cercato di metter su un accrocchio che mette insieme i dati di INA i dati di IMS e i dati di ISTAT per riuscire a elaborare dei servizi migliori dal punto di vista del welfare queste cose qua cosa che è assolutamente interessante però pensiamo al fatto che abbiamo una popolazione che andrà invecchiando perché siamo un popolo che mangia bene come i giapponesi infatti i primi giapponesi secondo noi questo è vero l'altra cosa purtroppo facciamo pochi figli e lì ci collassa il sistema pensionista proviamo a dare un valore ai ricordi di queste persone anziane che fra un po' come me fra vent'anni ci avranno la badante robot cui giochi a scacchi ti racconti i libri ma qualcuno cavolo deve poi andarle a visitare allora c'è una misura che si chiama servizio civile universale andiamo a interrogare le persone anziane parliamo insieme cerchiamo di trarre questi ricordi cerchiamo di farlo in un sistema pubblico cerchiamo di far sì che lo Stato diventi più consapevole non so che è un'utopia perché però se non abbiamo se non rilanciamo una qualche utopia siamo fregati dobbiamo uscire da quel tipo da quel tipo di logica bene io ho ho fatto un piccolo riassunto un piccolo diciamo collage degli stimoli che mi sono arrivati dagli oratori e vorrei proprio concludere col fatto che tutto questo ci porta secondo il mio punto di vista a recuperare un ruolo per l'uomo e per il pubblico nel controvertire questa tendenza un pochettino arida a cui siamo di cui siamo spettatori e nel valorizzare la creatività umana che almeno per 25 anni perché poi quando il connettoma sarà decifrato rischiamo di perdere e facciamo facciamo sì che si abbia fiducia anche in chi crea tecnologie perché lo fa se come stiamo cercando di fare con etica responsabilità sociale e humanities quello che sta capitando è che i miei ingegneri adesso si beccano secondo anno dei corsi di humanities e si fanno una grande palestra di creatività e di innovazione che è un modello grandi sfide in cui scelgono i miei ingegneri lasciamo per gli architetti perché comunque loro sono molto più aperti gli humanities degli ingegneri sei grandi sfide dell'umanità 3.000 ingegneri del secondo anno ne scelgono una sentono un tecnologo sentono un umanista e poi lavorano in gruppo con quel gioco di ping pong per pensare qualche soluzione insomma c'è speranza almeno per un po' e cerchiamo di giocarcela tutta grazie grazie a tutti Grazie a tutti.